Eugenio Ripepi, sarei sul palco con dei comici per far divertire, sì, ma anche per magari aiutare a sorridere di più chi ha poco da sorridere purtroppo. Esattamente, perché sono dei comici ma sono anche delle straordinarie persone che si mettono in gioco per aiutare in una grandissima causa che è la lotta alla fibrosicistica e quindi tutto l'incasso di questa serata verrà devoluto alla ricerca e abbiamo l'onore, oltre ad avere Germano Lanzoni, famoso come protagonista della crew milanese imbruttito, Enrico Balbontini, in questo scontro tra Milano e Liguria, in questo auditorium della Camera di Commercio grimito, in questo tutto esaurito, anche l'opportunità di avere qui con noi sul parco Miriam Colombo, testimonial della ricerca per la fibrosicistica e insignita 21 anni del titolo di Cavaliere della Repubblica. Sergio Mattarella prenderà venerdì 31 l'onoreficenza, quindi una grande serata importante con tanti ospiti. Tanti ospiti, tanto pubblico, soprattutto tanto bello il filo conduttore di questa serata. E così come dici, Imperia ha un cuore grande e si vede, si vede nelle occasioni importanti e vedere un auditorium grimito e pieno in ogni ordine di posto per una causa così importante, è qualcosa che fa ben sperare anche per il futuro.